Ancora indici di ascolto in ascesa ieri sera per Agorà. Il rotocalco settimanale di Canale 10, al suo sesto anno di programmazione, continua a tenere banco come ogni venerdì sera nelle case dei gelesi, con argomenti, temi ed ospiti che interessano la nostra città. Nella puntata andata in onda ieri sera la parola d'ordine è stata primarie. Se ne parla nel centro-sinistra gelese, come da tradizione, ma oramai è un termine in uso anche nel centro-destra locale. Il tutto ha conferma che si scaldano i motori nella politica gelese per le elezioni amministrative che a maggio chiameranno alle urne i cittadini di Gela che dovranno scegliersi il nuovo sindaco e i nuovi 30 consiglieri comunali che andranno a governare la città del Golfo per i prossimi cinque anni. In studio il sindaco uscente Angelo Fasulo e due suoi papabili sfidanti alla consultazione che andrà in scena fra qualche mese, ossia Peppe Di Dio per articolo 4 e Lucio Greco per il nuovo centro-destra. Assieme a loro il presidente dell'Assemblea provinciale del PD, Carlo Romano, che non ha escluso la possibilità che il maggiore partito cittadino scelga il suo candidato alla prossima poltrona di sindaco attraverso quelle primarie che lo stesso PD ha inventato in Italia. Nel corso della trasmissione andata in onda ieri sera, Agora ha dato in assoluta anteprima l'ufficialità del nome che rappresenterà il Movimento 5 Stelle alla competizione elettorale di maggio. I grillini gelesi infatti, proprio ieri sera mentre andava in onda Agora, hanno scelto l'ingegner Domenico Messinese come loro candidato a sindaco. La puntata del programma di approfondimento giornalistico della nostra redazione è stata aperta dalla scheda di Giulio Cordaro dal titolo Fuori dal Coro, che in pieno tema con la trasmissione si è occupata di primarie e di prospettive per il futuro del governo cittadino. Chi volesse rivedere questa interessantissima puntata di Agora potrà farlo domani sera con la replica integrale su Canale 10 alle ore 21 oppure collegandosi già dalle prossime ore sul nostro sito internet tg10.it cliccando sul link Agora o ancora sul profilo Facebook di Canale 10. Agora tornerà in diretta venerdì prossimo in prima serata con ospiti ed argomenti che interessano come sempre Gela e Dijelesi.